Buongiorno da Carla e da MBStore.com. Voglio presentarti la nuovissima gamma di lampade, fari e tubi a led presenti nel nostro store. Cominciamo dai tubi a led. Li abbiamo nelle misure da 60, 1,20 e 1,50, nelle colorazioni 4.000 e 6.500 gradi Kelvin. Queste lampade possono sostituire i classici tubi a neon e funzionano a 220 volts, quindi senza uso di starter e reattore. Queste invece sono le nuove wireless della Viva, uniscono lo stile classico della vecchia incandescenza con la tecnologia led. Le 14 sono tutte da 4 watt e corrispondono ai 35 watt della vecchia lampade d'incandescenza. Le abbiamo nelle colorazioni 2007 e 4000 gradi Kelvin e nelle forme tortiglione, tubolare, oliva e colpo di vento. Le goccia invece le abbiamo da 6 watt che corrispondono alle vecchie 50 watt e da 8 watt che corrispondono alle vecchie 60 watt, sempre nelle colorazioni 2007 e 4000 gradi Kelvin. Queste invece sono le GU10 da 7 watt, disponibili nelle colorazioni 3000 e 6000 per la Viva e 3000 e 4000 per la lampo, sono da 470 lumen ed illuminano grossomodo come una vecchia di croica da 50 watt. Infine, la nuovissima gamma di fari a led SMD disponibili da 20, 30 e 50 watt e nelle colorazioni 2007 e 6500 gradi Kelvin. I fari a led SMD garantiscono una resa luminosa formidabile a dispetto della loro forma compatta. Seguici anche su Facebook, Twitter e Google Plus e se ha altri dubbi o domande contattaci sulla nostra casella di posta elettronica info-mbstore.com o lascia un commento sul nostro canale YouTube. Un saluto da Carla ed è tutto lo staff di MBstore.com. Ciao!